Signor collezionista Ma io non sono un collezionista, diciamo le cose come stanno Sono un raccoglitore Raccoglitore di? Raccoglitore un po' di tutto Ma soprattutto stasera di? Di filmettini Di filmettini come? Filmettini hardcore Hardcore, bene Allora, è emozionato? Sì, ma È incredibilmente emozionato Ma come si sente? Come si sente? Non mi sento, è un'emozione che non provavo da tempo All'esame di maturità È un orgasmo, potremmo dire Ma come è stato vedere dal vivo il regista Che l'ha fatta tanto a patire per trovare tutti questi Super 8? No, è sempre stato il mio mito Quali sono le caratteristiche di Latte Brown? La qualità è cessa Quindi la qualità dell'immagine? Sì, ma la qualità di quell'opiace Poi vogliamo dire, Latte Brown in realtà è italiano Quindi il porno è stato realizzato in Italia Perché questi cortometraggi sono 70-71 Sì, lui è pioniere in Italia Con la profonda quando è stato fatto? Nella sua soffitta Nella sua soffitta si dice che ci siano segreti inenarrabbi Oltre i Super 8 Quindi saranno... Un giorno Caina vorrebbe venire nella sua soffitta A fare un viaggio nella sua soffitta Un last minute C'è da scavare C'è da scavare Stasera cosa si aspetta di questa serata? Bella serata Una serata divertente Tra amici Come sempre Quando si viene a montare Cosa proietterà? Quali sono i titoli dei... I titoli... Casanova e le... Casanova Casanova 1 Casanova 2 E le sue ore Va bene, va bene Ci vediamo dopo Bianco Sardi È stato il saluto Vittoria È veramente un aperitivo vigoroso Vittoria Chi è stato a prenderti per mano È un aperitivo vigoroso Di quelli che ti tolgono le inibizioni Bevete bianco Sardi La veritivo vigoroso Grazie Scusate Grazie 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 Grazie